Now, say my name un euro con tavolino con tavolino, cioè devi tirare nel tavolino a forza di vietare per terra due player due player sono pazzi sei pronto? vai vai atenzione oh oh che so sti zompi? oh oh attenzione, eccolo, 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 si piega, si piega c'è, c'è, c'è il freddo è molto, è così il gioco oh aspetta, sto con somma non c'è il cazzo che dici mi fai ah prima vincevo, eh giuro eeeeg è error edmroum perfettante eccolo noi mamma, le st abundance ma chi zantarella quasial così oh che è sta roba? al contrario oh 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 ! domina, domina con la pallata puying Che non so... No, no, perché sei partito in un vantaggio? Ma non vali! Oh, cazzo! Elevate! Senza testa! Senza testa, vai! Oh, di voi, come sei partito in un vantaggio? Ti hai preso più forte. Eh, certo. Eccolo! 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 Uh-huh! Sì, siamo 4 a 3! Musica! Mi parte la musica di voi. Oh, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Oh, olè! Va a vincere! Spam! Mamma mia! Overpower! Ha rosicato? Allora. Guarda come si fa, guarda come sei vio! Busca! Bestia, bestia! Bestia! Mamma mia! Gli spacca la testa! Ho perso la testa! Che? Che è sta roba? ma è bianco non si capisce dove vai? eh non ho capito mi sembra che mi ha detto oh no ma come mi hanno fatto vincere lui perché si è accorto che è barato vabbè vai guarda guarda che infame che vuole partire in vantaggio mamma mia comunque prima ero ero di nuovo drogato ho sottolineato gli uomini normali eccolo grande capotone adesso tocca a fare tutto di sé eccolo basta poco ma non è possibile pochi clicchi vedi che non serve a niente essere colibri oh aperto in due l'ultima vai oh ma questo è il complotto grande vuole fare il capotone vuole fare il capotone che è mini plank più di chissi eccolo eccolo se lo porta appresso se lo porta appresso sotto il tavolo sotto il tavolino quello là il testone ho io vai t'ho fregato t'ho fregato no 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 sotto il tavolo sotto il tavolo eh sotto il tavolo eh sotto il tavolo sto cazzo è un culo è sotto il table le perni sono dei table col bianco non so capace eccolo 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 3 a 0 vince Xenic grande bomber di razza allora mo basta manco uno manco uno ne devi vincere vai vai oh 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 olle che cazzo fa questo è soppato all'indietro perché è anti gravità eccolo 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 che cazzo fa questi vinco io o questi vinco io dove vai no lo voglio io non voglio io il tavolo eccolo eccolo lo prendo in controtempo vai 5 a 0 sotto il tavolo 5 a 0 sopportarci mia oh sempre a lui oh no vaffanculo ho torto la mano sbam 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 pochi tocchi e no 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 se se si compete 4 a 0 qui senza teste senza teste devi vincere dare il passo sotto al tavolo dare il passo sotto al tavolo e ora vai sotto 5 a 0 vai là sotto vai là sotto no vai là sotto che ti riprendo pure vabbè ragazzi con questa vittoria schiacciante d'immiguale sì ci vediamo nel prossimo video bella è brutta finirla così però non è finita non è finita non è finita basta 4 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 everything